Ciao, sono Zona di Turbola.it Come probabilmente potrai notare oggi non mi sono nello studio perché è sabato e sono venuto a fare il weekend al mare Ci ho tenuto però a fare questo breve video per informarti di una novità veramente bomba uscita ieri sera nella tarda serata In particolare Coinbase ha anticipato l'intenzione di aggiungere 5 nuovi criptoprogetti ai trading sulla propria piattaforma I particolari progetti sono ADA, quindi la moneta nativa del progetto Cardano Stellar di Stellar Lumens Zcash, Zcash, che dir si voglia, ZeroX, l'exchange distribuito e Basic Attention Token Le coquatazioni di questi progetti ovviamente sono immediatamente esplose verso l'alto e sono cresciute in doppia cifra Quindi ovviamente si è confermato il trend positivo C'è da dire però che questo si tratta di un'anticipazione e non come ho letto su alcune testate meno attente a questo tipo di cose Di la reale implementazione che arriverà nei mesi futuri Coinbase ci ha tenuto a precisare che comunque non è detto che verrà effettivamente concretizzato questo progetto Ma ha tenuto a dire che stanno studiando la fattibilità delle operazioni in un'ottica di massima trasparenza In particolare hanno rilasciato questa informazione al pubblico in contemporanea ai propri dipendenti interni Per evitare le polemiche di insider trading che ci hanno stato in passato in particolare per quanto riguarda il trading di Bitcoin Cash Staremo a vedere appunto nei prossimi giorni come si evolverà la faccenda Bene, da Zanni di Turbola.it è tutto Se il video ti è piaciuto ti chiedo di cliccare mi piace cliccando sul pollicione qua sotto Per me è sempre molto molto importante quindi grazie in anticipo se lo farai Per essere notificato ogni volta che inserisco un nuovo video Clicca sul pulsante iscriviti qui sotto e sulla piccola camparella che si trova di fianco Al prossimo video, ciao!